Il titolo Miracolato l'ho usato, l'ho scelto, sia per un po' ironizzare sulla mia situazione di aver fatto una serie di cose in breve tempo, sia perché comunque è cominciato da quando ho inventato il miracolo moderno di Gesù a Italia's Got Talent, quindi ho pensato di omaggiare questa parola perché non è il titolo. Max Angioni si sente un miracolato ed è proprio così che ha deciso di intitolare il suo spettacolo, che è arrivato anche ad Arezzo per l'estate in fortezza, tutto esaurito. Tra i migliori comici emergenti italiani, reduce dai successi di Italia's Got Talent, Zelig, Le Iene e LOL 2. Ma la cosa carina è che io a LOL ho detto, beh adesso la prima ora di LOL me la prendo per studiare gli avversari. La prima ora, studiare con rispetto, prendo le distanze e capisco un po' che strategia, che gioco fare. Stacco, dopo dieci minuti mi ritrovo a novanta di fronte al cestone dell'immondizia, con dietro il mago Forest che faceva così. Angioni va nell'umido. Wow, è partita la gara, fantastico. In due ore di spettacolo ha alternato i suoi cavalli di battaglia, come Kevin Scannamanna, una parodia dei partecipanti ai Talent, alla sua storia personale e quello che poi lo ha reso più famoso, un racconto ironico ed eccentrico del Vangelo. Giuseppe è una figura che mi ha sempre commosso, da sempre. Giuseppe, sono incinta. È stato lo Spirito Santo. Spirito Santo di chi? Mi chiamo Kevin Scannamanna e reggo molto bene la tensione. faccio imitazioni. Cosa? Imitazioni, sì, davvero, wow, cosa? Imitazioni, imito... Vasco Rossi. Il cantante, eh? Imitazioni, Vasco Rossi. 3, 2, 1, Vasco Rossi. Ah, rientro. Vasco Rossi, 3, 1, Vasco Rossi. Sulla voce devo ancora lavorarci. Dettagli, beh, miglioro, avete ragione, mi posso migliorare, è vero. Attivizzazione? Claudio Baglioni, Claudio Baglioni. Una canzone di Baglioni? Piccolo e grande amore? Di Baglioni? Eh, non le conosco tutte, eh. La serata finisce così, tutti in fila per un selfie con il miracolato della nuova comicità italiana.